buon primo gennaio buon anno dolcissime dolcissimi vi faccio vedere regali che ricevuto per natale allora ho ricevuto da mia zia e mio zio paterno questo pigiama della marca buccia di mela e così solamente che blu la maglia e il ricevuto queste due lanterne si sono di halloween però chi me l'ha fatto ha avuto un pensiero molto 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 carino poi da una mia amica ho ricevuto questo paio di orecchini poi vi faccio vedere l'ultima cosa che un regalo bomba poi ho ricevuto questa maglia dei figli dimmi dei miei zii paterni quelli che mi hanno fatto il pigiama i figli mi hanno regalato questa maglia della a che è molto bella bianca particolare c'è tutte queste cose qua poi la mia sorella cinzia ho avuto questo giubbotto lungo con la pelliccia molto bello e verde e mi piace tanto e lungo arriva fino a qui poi sempre la mia sorella cinzia ho avuto questo cappotto molto bello che ve lo faccio vedere e con qua è il cappello il cappuccio e questo è il davanti tutto pelicciato molto molto bello poi da mia sorella maria ho ricevuto questo palette molto 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 bello anche lui poi questo profumo se per la mia sorella maria roma di di chi è chi lo fa vediamo se non mi sbaglio laura biaggiotti poi da una mia amica una signora hanno vicino di casa ho avuto questi orecchini dorati ho sempre da mia sorella maria ho avuto questo avon for away poi dalla farmacia mi hanno regalato questo stavo il gel doccia e la crema corpo il farmacista ma considerate gel doccia è molto molto bello e io credo proprio che lo userò lo userò questo bagnoschiuma poi il regalo bomba quello che parlavo è questo trolley make up vedete come si apre c'è questo c'è questo che si apre così quasi promette tutto quello che volete e dentro ho messo vi faccio vedere ho messo questo della bellissima questa della bellissima quello che fa di capelli onde poi ho messo questa piastra sempre riccia capelli poi ho messo questa piastra lisciante così faccio i capelli lisci a mia sorella e poi questo specchio molto molto bello che ti puoi specchiare e fa la luce questo si apre così dentro e speziosi posso metter tutto quello che vuoi vi faccio vedere come si chiude e questo è il coso che si alza e lo puoi portare così volendo dopo portare così così non ti uccidi vi piace lasciate i commenti i commenti sotto il video e noi ci vediamo il prossimo video baci 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 ciao